Book 2 23 Studiare le lingue straniere Dove ha imparato lo spagnolo? Sa anche il portoghese? Sa anche il portoghese? Sì, e so anche un po' d'italiano. Trovo che lo parla molto bene. Le lingue sono piuttosto simili. Riesco a capirle bene. Riesco a capirle bene. Ma parlare e scrivere è difficile. Faccio ancora molti errori. Per favore, mi corregga sempre. La sua pronuncia è molto buona. Lei ha un leggero accento. Si può capire da dove viene. Si può capire da dove viene. Qual è la sua madrelingua? Frequenta un corso di lingue? Che libro di testo utilizza? Che libro di testo utilizza? In questo momento non ricordo come si chiama. In questo momento non ricordo come si chiama. Non mi viene in mente il titolo. Non mi viene in mente il titolo. L'ho dimenticato. L'ho dimenticato.